rispetto alle regole in una società civile è una cosa fondamentale. Ogni anno la Polizia di Stato attraverso uno strumento che equipaggia tutti gli design degli scolari d'Italia promuove la campagna delle legalità e del rispetto delle regole. Quest'anno la Polizia di Stato ha donato ai ragazzi della RegiFriends il mio diario, strumento per sensibilizzare la legalità e sensibilizzare il rispetto delle regole. In questo momento molto ma molto più importante. Un ringraziamento al capo della Polizia di Stato, dottor Franco Gabrielli, un ringraziamento alla campionessa olimpica Valentina Benzali, un ringraziamento a Daniele Sottile, capitano della top model del sistema. Un ringraziamento a Daniele, un ringraziamento a Daniele Sottile, capitano della campionessa. Un ringraziamento a Daniele, dicano, accendiamati a Daniele, es a vero che�anti a Daniele,omma. La Polizia del Iguovra è una cosa fondamentale, una cosa fondamentale. Un ringraziamento a Daniele, accendiamati a Daniele Sottile, capitano della Grazie a tutti